La decantata passeggiata inaugurata a luglio scorso che collega Santa Maria con i principali lidi del comprensorio Marina Grande e Pozzillo rischia di scomparire. Sono stato sul posto ed ho potuto appurare di persona quanto discrittomi. Un'opera pubblica consegnata solo alcuni mesi fa rischia di essere cancellata dalla sola forza del mare. E' quanto denunciato dal capogruppo di opposizione del comune di Castellabate Alessandro Lo Schiavo che chiede interventi urgenti per fermare il progressivo stato erosivo delle coste. L'azione politica dell'amministrazione comunale targata Costabile Spinelli è descritta anche da quest'opera pubblica. Un'opera pubblica inaugurata a luglio, un'opera pubblica che a distanza di pochi mesi è stata divorata dal mare. Io ho sollecitato da tanti cittadini che hanno la sana abitudine di passeggiare sulla spiaggia da diversi operatori balneari mi sono recato sul posto, ho appurato quanto descrittomi durante le conversazioni telefoniche e ho potuto certificare lo stato di degrado, lo stato di abbandono di un'opera inaugurata a luglio che rischia letteralmente di scomparire sotto la forza dirompente del mare. Ho pensato bene di scrivere al sindaco, di denunciare questo stato di degrado, questa decomposizione la chiamerei io di un'opera pubblica che ha pochi mesi di vita e quando in ballo ci sono i soldi pubblici, i soldi di tutti i cittadini del Comune di Castellabate si chiede all'ente di farne un uso misurato, un uso chiaro e soprattutto un investimento che duri nel tempo, che non duri l'arco di una mezza stagione turistica. Il danno è fatto, io nella mia denuncia ho sottolineato di come l'amministrazione comunale avrebbe dovuto predisporre un piano di manutenzione e recupero, consistente anche nel rialzare i quadroni di cemento nei punti maggiormente esposti all'erosione della costa, conservare gli stessi quadroni di cemento presso le strutture balneari presenti, perché poi ricordiamocelo tra l'altro che questa passeggiata principalmente serve per collegare il lungomale di Santa Maria con i principali liti balneari del nostro comprensorio, del nostro litorale. Invece è arrivato Natale, è arrivato il Capodanno, è arrivato il nuovo anno e l'opera è saltata, quindi l'opera stessa è da considerarsi come un'opera pubblica usa e getto, la facciamo per la durata di un'estate e poi si vedrà. Tutto questo non va bene e io ho messo nero su bianco le mie valutazioni, le mie perplessità cercando di farmi interprete anche del pensiero della cittadinanza del comune di Castellabate e cercando anche di aprire un dibattito molto più ampio che va proprio nella difesa del litorale più in generale, nella difesa delle nostre spiagge, al di là della difesa del nostro litorale inteso come centro abitato. Ma le nostre spiagge sono oggetto di un'erosione costante, lo si evince anche dal primo tratto di spiaggia del Puzzillo, lato San Marco, dove da alcuni anni a questa parte la forza di riempente del mare ha fatto fuoriuscire scoglie e pietre che a memoria d'uomo non si ricordavano. Io almeno ascoltando le persone più anziane di San Marco che vive ed opere in quel comprensorio mai poi mai si è vista una situazione del genere. Quindi uno scompenso creato alle attività balneari, commerciali, ai turisti, soprattutto ai tantissimi cittadini che vivono in quella zona, di non poter soffrire più di quel tratto di spiaggia che per più di mezzo secolo ha dato la possibilità a tutti noi di fare un bagno avendo la sabbia, non sicuramente gli scogli e le pietre.